Olandese del 2003 Un percorso cambiato, 9 salti, una doppia gabbia rimane, 1,40 m l'altezza, 375 m al minuto Su una lunghezza di 380 m, 61 i secondi previsti per questo percorso Si parte a mano sinistra dal numero 1, Happy Horse, barriere bianche e rosse 5, 6, 7, 8, 9 tempi esterni, rimette giù i posteriori, non c'è però l'errore, non tocca la barriera Viene avanti, prende un po' di spazio per la linea diagonale destra per la doppia gabbia, verticale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempi ben montati, un po' di aiuto per l'oxo centrale e il verticale in uscita Numero 5, l'oxer, buona la distanza, adesso il dietro fronte Questi sono spazi che bisogna cercare di recuperare per non perdere troppo tempo La linea 7, 8 Riprende equilibrio per il verticale, 1, 2, 3, 4, 5 tempi E poi la chiusura sull'oxer numero 9 per Lorenzo, va a chiudere senza errori, bravo Lorenzo Un bel percorso netto, questa seconda manche, 26, 74 la sua chiusura di campionato Lorenzo